Niente incentivi per i dipendenti di casa sollievo della sofferenza, ancora una batosta per i lavoratori della sanità. Il Dipartimento delle Risorse Umane ha comunicato alle organizzazioni sindacali che nella prossima busta paga non sarà corrisposto il saldo a incentivazione per i lavoratori di casa sollievo della sofferenza. Questa decisione arriva dopo la mancata erogazione del premio Covid e rappresenta l'ennesimo schiaffo a chi ogni giorno si dedica con impegno e sacrificio alla cura dei pazienti. A denunciarlo è il consigliere regionale Napoleone Cera che evidenzia anche un clima di frustrazione e di sfavore tra gli operatori sanitari dell'ospedale di San Pio, professionisti che hanno affrontato e continuano ad affrontare l'emergenza sanitaria con dedizione e professionalità e che ora si trovano a dover fare i conti con la mancanza di riconoscimento economico del loro impegno. Denunciamo con forza, dice Napoleone Cera, questa situazione e chiediamo un immediato dietro front da parte dell'amministrazione dell'ospedale. In attesa di avere risposte positive, continua il consigliere regionale Napoleone Cera, siamo pronti a intraprendere tutte le azioni necessarie per tutelare i diritti e la dignità degli operatori di casa sollievo della sofferenza. In attesa di riconoscimento economica